Ciao, sono Alessia e sono un'atleta. Il mio sport? La ginnastica ritmica. Mi ha affascinato fin da subito, fin da quando ero piccola. La musica, gli esercizi divertenti, gli attrezzi movimento. Ed ora sono la capitana della nazionale e voglio raccontarvi di come non mi sono mai fermata. Muoviamoci ragazzi! Il mio sport è speciale perché quando sono in pedana riesco davvero a esprimere me stessa. Mi diverto, mi muovo, mi emoziono. Mi sento davvero una regina e sono sempre in sintonia con le mie compagne. Noi atleti dobbiamo essere sempre pronti ad allenarci e per questo è fondamentale l'alimentazione. Una colazione abbondante per avere energia per tutta la giornata. A pranzo un primo e a cena rimango un po' più leggera. Ma cosa fondamentale è l'acqua. Io ne bevo due litri al giorno. Perché fare sport? Perché lo sport non è solamente impegno, sudore e fatica, ma anche un modo per divertirsi, stare bene con se stessi, con i compagni e gli avversari. Tutti condividiamo la stessa passione. Perciò chi si muove ha già vinto in partenza. Muoviamoci ragazzi!